Buongiorno, oggi voliamo da Napoli a Roma. Sarà un volo successivamente spettacolare in quanto sorvoleremo molto nella parte del litorale, sulla costa tirrenica, sarà tutto un volo quindi spettacolare. Potremmo ammirare sul lato destro le montagne dell'Apenino centrale e sul lato sinistro invece osserveremo il mare. Probabilmente riusciremo ad intravedere sia Ventotene che Ponza, che sono due isole a largo del mare martirino situato tra Napoli e Roma. E proseguendo quindi sorvoleremo varie città, Latina, Pomezia, per raggiungere poi a Fiumicino, che è la località dove è situato l'aeroporto di Leonardo da Vinci, aeroporto internazionale di Roma. Ok. Ok. Partiamo con Boeing 747, primo volo. Grazie a tutti. 2% 3-3-3. 2% 3-3. 2% 3-3. 2% 3-3. 2% 3-3. 2% 3-3. 2% 3-3. 2% 3-3. 2% 3-3. 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 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. 5-3. 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 6-3. 5-3. 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 6-3. 5-3. 5-3. 5-3. 5-3. 6-3. 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 7-3. 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